Ottima opportunità per il portoghese, al cinquantesimo Anderson per Immobile, colpo di tacco che scavalca Cragno e il pareggio del Lazio al cinquantesimo minuto, è il trentaquattresimo gol stagionale di Immobile, è guagliato il record di Chinaglia, non so se questo tacco può essere associato al colpo dello Scorpione, ma è senz'altro una giocata coraggiosa e fortunata.